E' partito lo scorso 6 luglio il piano vacanza sicura, vediamo di cosa si tratta nel servizio di Angela Russo. E' partito il piano estivo di potenziamento del servizio trasporto infermi, che prevede 7 postazioni aggiuntive di soccorso con impiego di ambulanze medicalizzate attive 24 ore ad Ascia Marina, Acciaroli, Santa Maria di Castellabate, Marina di Camerota e sulla litoranea di Ponte Cagnano. L'ASL Salerno mira così a rafforzare la risposta di soccorso, rendendola più efficace e sicura ai cittadini e ai villeggianti che popoleranno nei mesi di luglio e agosto le località turistiche della nostra provincia, in particolare del Cilento. Per tale potenziamento l'azienda sanitaria locale Salerno ha impiegato risorse per un ammontare di 431.000 euro.